Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di lunedì 9 marzo 2020, buongiorno da tutti noi di Fano TV, ben ritrovati cari telespettatori, iniziamo questa nuova giornata e questa nuova settimana, una settimana per noi che siamo nella provincia di Pese d'Urbino come ben sapete insomma con qualche sacrificio da fare, una settimana in cui siamo chiamati anche oggi e lo faremo fino al 3 di aprile, siamo chiamati a vivere insomma cercando di fare ognuno la nostra parte per debellare questo virus, questo nostro compagno di viaggio di cui faremo a meno ma che purtroppo c'è ed è presente in mezzo a noi. Allora andiamo subito a vedere il santo di oggi, oggi è Santa Francesca Romana e allora auguri a tutti quelli che portano questo nome, il sole è sorto alle 6.31 e tramonterà 6 minuti dopo le 18, vediamo subito il tempo in base al bollettino della protezione civile delle Marche, per oggi ci sarà un cielo da parzialmente nuvoloso nuvoloso con temperature minime che sono ancora in diminuzione, fa freschino questa mattina e dunque attenzione questa notte e domani mattina alle gelate notturne nei fondovalle, nelle zone pianeggianti. Martedì si presenta una giornata inizialmente serena e poco nuvolosa con aumento delle velature nel corso del pomeriggio, domani le temperature saranno invece in aumento le minime e le massime stazionarie, condizioni di tempo stabile anche per la prossima settimana. Si parla chiaramente di coronavirus, questa mattina nelle pagine del resto del Carlino e del Corriere Adriatico le edizioni di Pesaro in particolare e naturalmente si parla soprattutto della tanta gente che ieri era, nonostante i divieti, nonostante le limitazioni, era in giro a passeggiare, come se nulla fosse. La fotografia che forse andava fatta o comunque che andrà fatta, credo sia opportuna, deve riguardare gli operatori sanitari, le strutture sanitarie. Dovremmo entrare con tutto il rispetto, con tutte le accortezze di questo mondo all'interno dell'ospedale, all'interno degli ospedali dove si curano le persone che sono in questo momento intubate e che stanno lottando per guarire. Perché parlare di coronavirus che non si vede e che dunque è per molti un fatto sconosciuto, un qualcosa di sconosciuto, non tangibile, rischia di far perdere l'orientamento. Allora dovremmo far vedere invece di più quello che succede dentro gli ospedali, forse per far capire di che cosa stiamo parlando. E comunque ecco il titolo del resto del cardino di questa mattina. Ore 18, scatta il coprifuoco. I locali pagano il prezzo più pesante dei nuovi divieti, ma c'è chi chiude il 3 aprile, fino al 3 di aprile, come Uldergo e l'artista che hanno deciso di chiudere e di riaprire dopo, alla fine di questa esperienza, di questa ordinanza. Decreto. Altri sperano nell'asporto e nelle consegne a casa. Il titolo poi sotto, i titoli più piccoli sotto la testata, Ricci che fa l'appello ai cittadini rispettiamo le regole e ce la faremo, mentre a Fano Seri dice non si sollevano polemiche durante le emergenze. Un altro dramma, una settima vittima nelle Marche e un anziano della nostra provincia. Sotto viaggiano la città blindata e dura, ma adesso si deve restare uniti. Mentre lo sfogo, eccolo qua, l'infermiere che dice la gente sia responsabile o sarà il caos. Uscire si può, le nuove regole, ma per motivi seri. Ecco che cosa bisogna fare. Visefano, calcio, che cosa fare? La Serie C traballa, basket, WL, stop anche al turno, infrasettimanale. Oggi Consiglio federale d'urgenza, campionato sempre più in bilico. Corriere Adriatico, piano antivirus da 400 posti letto, oggi il Varo in regione. Oltre ad ancora è Pesaro stravolte, poli esclusivi a Camerino, Fossombrone e Chiaravalle. Settima vittima, positivi a quota 272 gli esperti. Il contagio arriverà nelle altre province. Si studia step successivo. Intanto eccola qua la fotografia che fa stridere, fa storcere il naso, ma soprattutto a coloro che lavorano giorno e notte dentro i nostri ospedali. Pesaro blindata, ma al mare è ressa. Questa è la fotografia con il titolo. Ricci, sono sindaco e padre. Serve equilibrio. Ieri mattina Ricci ha tenuto un discorso ai pesaresi per spiegare, per capire, per raccomandarsi che ognuno sia responsabile. Sono sindaco e padre. Le cose cambiano ogni giorno e il rischio è di perdere equilibrio. Chi ha responsabilità non deve farsi prendere dal panico. Il Vescovo, il Vescovo Piero Coccia, dice pregate la Vergine che salvò la città dal colera. Fanno sera invece in vita a rispettare le regole per frenare la malattia. Il confine è violato, stiamo parlando del confine ipotetico, che poi non è neanche tanto ipotetico perché è reale, che si trova al Ponte Cesano, il confine tra la provincia di Ancona e la provincia di Piesa Urbino. Nessuno però ferma, nessuno. Continuano le razzie di biciclette, il disagio degli insegnanti, i docenti a Fano del Nolfi non sono risparmiati dai furti. Le pagine interne. Spostarsi, abbiamo detto, spostarsi si può ma soltanto per motivi seri. Ragioni di lavoro e salute consentono di andare anche fuori provincia. Le aziende sono aperte, ecco le regole, Ricci dice seguiamole. Vediamolo velocemente in questo riquadro sul resto del Carlino. Allora abbiamo detto spostamenti che sono da evitare. Ecco quando ci si può muovere. Divieto di spostamento all'esterno e all'interno della provincia, salvo comprovate esigenze lavorative o collegate a situazioni di necessità o motivi di salute, consentendo però il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Rifornimento merci. I corrieri possono consegnare e prelevare le merci. I merci possono dunque entrare e uscire dai territori interessati. Il trasporto è considerato come esigenza lavorativa. Il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare ed uscire dai territori, ma solo per consegnare o prelevare. I locali, i locali chiusi alle 18. C'è questo limite per ristoranti e bar. L'asporto è possibile con l'obbligo di garantire, ristoranti e bar aperti dalle 6 del mattino fino alle 18, con l'obbligo di garantire la già nota distanza interpersonale di almeno un metro, prevista in caso di inosservanza di tale cautela la sanzione della sospensione dell'attività. Le conseguenze. Il decreto punisce con l'arresto o la multa. Le conseguenze penali per chi non rispetta le restrizioni previste dal decreto del Governo sono l'arresto fino a tre mesi oppure un'ammenda fino a 206 euro. A queste si aggiunge la sospensione dell'attività per i locali che non rispettano la distanza di un metro tra i clienti. Rischia il carcere chi è invece in quarantena e che dunque non può uscire di casa. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora a carico di quei soggetti sottoposti a misura della quarantena, ovvero risultati positivi al coronavirus. Se trovati all'esterno rischiano l'arresto in flagranza e pene severe. Centri commerciali parzialmente chiusi nel fine settimana. Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, saranno chiusi nelle giornate festive e prefestive. Fanno eccezione farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. Rispettate le regole, siamo sul Corriere Adriatico, fermiamo così l'epidemia. Il Sindaco di Fano ha elogiato l'impegno del personale sanitario stigmatizzando le polemiche. Volontari aiutano le persone isolate e sole in casa. Un numero per segnalare le irregolarità. E poi, qua vedete la fotografia di questo momento, ieri, in questo momento della conferenza stampa, conferenza che scrive il giornale, è stata trasmessa in diretta Facebook e in TV, con distanze di sicurezza. Infatti, scrive Osvaldo Scatassi, anche la conferenza stampa, ieri nella sede del COC, ha risentito della stagione coronavirus. È stata organizzata in diretta Facebook e su Fano TV, senza presenza dei giornalisti. Centralini roventi alle forze dell'ordine per informarsi dei blocchi sulle strade. Molti si aspettavano varchi tra la provincia di Pesero e quella di Ancona, ma in realtà questi blocchi, come abbiamo già detto, più volte non ci sono, almeno per il momento. Ricci, io sindaco e padre, servirà molto equilibrio. Titola il Corriere che fa un'intervista, pubblica un'intervista appunto al sindaco Ricci, mio figlio più piccolo sta con i nonni, la grande invece no, ho spiegato loro la situazione, no a paura e menefreghismo, sì alla responsabilità. Il congedo parentale servirà. L'emergenza dimostra i limiti dell'autonomia che hanno le regioni. Negli ipermercati invece pochi clienti, dunque molta gente per le strade, fuori in giro al mare a prendersi un gelato, ma negli ipermercati in effetti c'erano poche persone. Settimo morto, l'ultima vittima è un 88enne, Biancani, l'assessore, il consigliere, scusate, regionale, lancia un'accorata esortazione soprattutto ai giovani che sembrano quelli più distratti, quelli che dicono a noi non interessa questo discorso del coronavirus. Qualcuno era addirittura indispettito perché gli hanno bloccato l'università e quello, quell'altro e con una sorta di menefreghismo generale insomma dice a noi questa cosa crea più disagio che altro. Insomma il consigliere regionale dice io ho quattro amici, quattro miei amici che lottano in rianimazione contro il coronavirus, respirano attaccati ad un tubo e dunque lancia un appello, mi rivolgo ai giovani, rispettate le regole se volete che i vostri nonni possano vivere a lungo. Ed eccola la fotografia che fa male, nel senso che ti fa capire di come la gente a volte sa essere purtroppo ignorante in questo senso. Noi a lottare in ospedale per salvare la gente dal virus fuori come il primo di maggio. È un virgolettato e sapete che quando le frasi vengono virgolettate significa che qualcuno le ha dette e allora questo qualcuno è un operatore sanitario che racconta sgomento quale sia la situazione all'interno del Santa Croce con posti, posti letto che sono praticamente agli sgoccioli in attesa di un urgente allargamento. Sembra che nessuno dice abbia capito la serietà di questa situazione come se gli allarmi non fossero mai stati dati. Arrivando al lavoro dice ancora questo operatore sanitario non ho visto fare controlli c'erano solo locali affollati strade intasate e file ai bar. Allora siccome questa foto è stata scattata a Pesaro ok? Nel lungo il corso lungo insomma il mare sul lungomare e siccome Pesaro Urbino come dicevamo ieri è una città con restrizioni perché circola il virus circola e come e non è assurdo pensare che tra queste persone tranquillamente tra queste persone ci sia qualcuno che magari ce l'abbia già e qualcuno che lo abbia già contagiato lo abbia già lo abbia già sì contagiato ad altri e se queste persone continuano ad assembrarsi e a stare tutte insieme attaccate come se nulla fosse chiaramente il virus vince e vincerà viaggio nella città blindata siamo sempre a Pesaro sul resto del carlino tutti insieme ce la faremo dicono le file nelle farmacie e ai banconi di supermercati ma non si rinuncia a festeggiare le donne e diciamo grazie alle nostre infermiere sono momenti interviste che il giornale ha realizzato ieri con alcune persone in giro per la città iper aperti invece i piccoli negozi chiusi esplode il caso i grandi centri hanno venduto anche articoli non alimentari e dunque la protesta di confcommercio siamo tutti sulla stessa barca ma nel prossimo fine settimana faremo fare controlli più mirati il piano antivirus da 400 posti il Corriere Adriatico ma è già allo studio la fase 3 la regione vara il secondo step di questo piano solo ad Ancona una palazzina e 100 letti a Marche Nord 43 tra terapia intensiva e semi semi intensiva a Camerino il Covid Hospital per la zona sud delle Marche a Fossombrone e Chiaravalle invece i decorsi dei degenti post critici l'escalation abbiamo detto continua c'è questa nuova impennata di casi eccoli qua 272 da 200 si sale a 272 l'incremento rispetto a sabato è di più 72 quello precedente era di più 48 di questi 41 sono in in terapia intensiva a Pesaro Pesaro che ha accelerato con il virus la suddivisione per provincia Pesaro è a quota 204 mentre sabato era 152 ecco questi sono i numeri sui cui dobbiamo riflettere la gente dovrebbe un attimo cercare di capire Ancona da 38 a 54 Macerata era 7 è diventata 9 da 3 a 5 soltanto 2 ma vedete come Pesaro è passato da 152 casi a 204 sono tantissimi e poi ci sono 1553 persone in isolamento domiciliare sono arrivati a questa quota qui di questi solo 131 sono sintomatici pensate gli operatori sanitari costretti a casa sono 246 degli 800 pesaresi a casa 100 hanno sintomi da virus mentre dei 400 di Ancona solo 10 presentano e sentono i sintomi che cosa fare cosa non fare le domande delle risposte che pubblica il Corriere Adriatico questa mattina soprattutto sui movimenti spostarsi dentro la zona 1 sì o no e poi che cosa rischio quali sono le conseguenze tollerate solo esigenze abbiamo detto per spostarsi di salute di lavoro e necessità le aziende sono aperte le merci possono circolare e dunque queste sono le domande e le risposte che troverete sul giornale di questa mattina in edicola la città blindata questa è ancora un'altra fotografia che pubblica questa volta il Corriere Adriatico la città è quella di Pesaro nella domenica più straniante ci si interroga su quello che accadrà la gente divisa in due da una parte i timori e le raccomandazioni dall'altra un disperato bisogno di ritornare presto alla normalità e tra i dubbi nel pomeriggio ci si ritrova tutti ammassati sul lungomare e eccola qua appunto la fotografia che indica come in tanti stanno prendendo alla leggera questo allarme questa emergenza fanno Pesaro una ciclabile chiamata Desiderio viaggio tra i due comuni con la gente appunto che cerca un po' di normalità ma qualcuno c'è sempre rimasto nella normalità l'arcivescovo Coccia dice ha sconfitto il colera ora la Madonna ci aiuterà a debellare anche il virus dunque la corona del rosario contro il coronavirus pregare la Vergine delle Grazie la Madonna che ha sconfitto il colera in passato ci aiuti oggi a lottare e a non perdere le speranze dice Monsignor Piero Coccia arcivescovo di Pesaro durante la celebrazione eucaristica di ieri mattina a porte chiuse speriamo di non venire ulteriormente penalizzati come esercenti a un momento duro per tutti mentre con le mimose per fortuna abbiamo lavorato oggi con il sole viene voglia di essere positivi ce la faremo anche se insomma essere positivi adesso non è il massimo della vita ma comunque sì dobbiamo pensare in positivo ma Pesaro è viva sicuramente le restrizioni ci cambieranno le abitudini ma dobbiamo capire anche come Urbino un reparto in 24 ore pesaresi ricoverati qui osservazione breve intensiva ricavate in chirurgia in tempi record è diretta da Mezzolani l'ospedale davanti avanti a turni non stop quattro nuovi contagi c'è chi regala le pizze al pronto soccorso tutte le merci invece possono circolare dice Mauro Papalini presidente di Confindustria Pesaro Urbino le nostre aziende restano aperte e rassicura dunque tutti gli associati ospedale di Camerino un polo per il Covid-19 via tutti gli altri pazienti allestiti 24 posti letti di terapia intensiva in arrivo tre infettivologi e un pneumologo saranno attive quattro sale operatorie Ceriscioli dice finita l'emergenza poi si torna come prima il ponte sul Cesano eccolo qua il limite il baluardo antivirus nessuno però si ferma non ci sono controlli il traffico è regolare sulla statale tra Senigallia e Marotta il sindaco Mangialardi è una furia che superficialità dicono così tutti siamo a rischio non ci sono dunque restrizioni non ci sono posti di blocco come siamo stati abituati a vedere a Codogno in Lombardia insomma eccetera eccetera e Mangialardi dice siamo in una fase in cui non c'è il coprifuoco è meglio stare in casa non è un obbligo ma se la gente continua ad ignorare i divieti e il buonsenso dice ancora il sindaco Senigallia allora sì che arriveranno restrizioni più serie ma perché dobbiamo arrivare tanto eh già se dentro un bar ci sono più di tre persone non entrate anche io sono andato al ristorante dice Mangialardi ma nei tavoli intorno praticamente non c'era nessuno si può uscire sì si può uscire ma con cautela chi non lo fa perché magari non teme il contagio dovrebbe pensare che potrebbe trasmettere il virus ad un genitore anziano ad un parente malato vogliamo essere così incoscienti ed egoisti dice il sindaco il sindaco di Senigallia Mangialardi ancora dai quotidiani questa mattina virus gli industriali comprano macchinari questo è il resto del carlino parte l'acquisto di cinque postazioni per la ventilazione artificiale da offrire all'azienda Marche Nord Confindustria dice questo è per noi un gesto di solidarietà Papalini le disposizioni non perdono di vista di evitare il collasso e poi sotto Berloni gli operai ora pensano alla dimissione volontaria la crisi aziendale dimenticata la chiusura della nota fabbrica di cucine pesarese una trentina di persone di operai hanno lasciato già la fabbrica chi è rimasto attende gli stipendi arretrati e soprattutto attende una svolta l'emergenza industriale legata poi al coronavirus parla l'assessore regionale Bravi che dice cassa integrazione in deroga sono in arrivo 27,2 milioni di euro lo sblocco arriverà dopo l'incontro di oggi con il ministro del lavoro non sia catalfo mentre sulla pagina 3 del resto del carlino ci sono le interviste ai vari commercianti che il giornale ha realizzato purtroppo per i ristoratori è una vera e propria mazzata questa chiudo e poi vedo dicono ristoratori e baristi ovviamente i locali storici come Uldergo oppure l'artista riaprono soltanto il 3 di aprile molte serrate in centro storico qualcuno cerca di reagire offrendo cibi da asporto non vale la pena lavorare ora quindi spero che riusciremo a superare il picco mentre un altro commerciante un altro ristoratore dice io non mollo alcuni faranno le ferie e terremo aperto solo la mattina e per il pranzo mentre e chiudiamo la pagina del coronavirus quasi chiudiamola quasi perché poi tutte le altre notizie hanno comunque indirettamente qualche riflesso Marche Multiservizi di mezzi le bollette per le famiglie che si trovano in difficoltà è l'appello di Luigi Tagliolini ai sindaci soci di Marche Multiservizi facendo leva sul loro senso di responsabilità considerando gli utili servono delle tariffe più leggere per acqua gas e raccolta di rifiuti e poi ancora dai quotidiani la mia sfida estrema tra giungla e vulcani parla il maratoneta Davide Vitali Davide Vitali che si sta allenando per il Costa Rica si tratta di un'esperienza al limite che finora non è mai stata affrontata da italiani e lui si sta allenando per una prima volta da non mancare è un ingegnere maratoneta un pesarese si prepara a raggiungere il Costa Rica per una iniziativa che si chiama Volcano Ultra Marathon è un'esperienza estrema che nessun italiano ha mai affrontato prima la gara si svolgerà il prossimo mese di aprile saranno 250 km attorno a 5 vulcani con un dislivello di 12.500 metri e qualche punto interrogativo ora in bocca al lupo per questa per questa avventura poi sotto invece la notizia di un uomo di un uomo che ieri mattina probabilmente preso dallo sconforto voleva farla finita voleva gettarsi dal balcone del palazzo è stato salvato questo anziano in piazzale primo maggio sono intervenuti polizia e vigili del fuoco quattro uomini della polizia due di loro perlustravano la situazione da sotto gli altri due sono saliti per raggiungere il tetto nel frattempo l'uomo che ha capito la situazione in cui si era ficcato si era nascosto rendendo tutto più difficile e poi insomma sono stati allertati i vigili del fuoco eccetera eccetera quindi alla fine però è stato riportato a terra sano e salvo centro civico questa è la pagina di Favio del Corriere stiamo parlando del centro civico a Gimarra è quasi completato sarà un modello per tanti altri quartieri il primo piano sarà finito a luglio mentre il secondo resterà allo stato grezzo ed ecco qua la fotografia appunto della struttura nel quartiere di Gimarra siamo alle porte di Fano lato nord la struttura è attesa praticamente da molti anni da decenni l'impegno per realizzarne una in ogni rione e in ogni frazione in ogni comune questo centro che appunto servirà da esempio e questo è un investimento per realizzare questo centro di 800 e passa mila euro 863 mila euro per quanto riguarda invece attenzione sempre a Fano le opere compensative della 14 ce n'è una che è già stata completata parliamo del rondò all'incrocio con via Mattei nei pressi dell'aeroporto però ieri sera il vice sindaco il vice sindaco scusate Cristian Fanesi mi ha mandato un messaggio dicendo che i lavori delle opere compensative per la questione del coronavirus sono sospesi ancora per qualche giorno fino a quando non torneremo alla normalità comunque fino al 3 di sicuro continuano le razzie di biciclette invece questo sempre a Fano soprattutto il disagio è per gli insegnanti della scuola del liceo Nolfi gli insegnanti che tra l'altro non vengono risparmiati dai furti cioè l'ultima bicicletta rubata intorno ai 1000 euro si riferisce a una bicicletta elettrica proprietà di un insegnante del liceo Nolfi che così come è successo anche a delle colleghe è costretta a fare lezioni in diversi plessi scolastici a causa dell'inagibilità dell'ex Carducci e quindi si deve spostare da un posto all'altro con la bicicletta e purtroppo anche a lei gliel'hanno rubata sono biciclette costosissime perché sono veicoli elettrici il cui valore come dicevo si aggiunge intorno ai 1000 euro e non vengono risparmiate non viene risparmiato nessuno tra l'altro hanno chiesto dei permessi per le auto in centro che ancora non sono arrivate insomma poi c'è il rivenditore di queste biciclette fanese che consiglia una catena resistente con il secondo lucchetto classico insomma bisogna fare ingegnarsi il più possibile magari investire un po' qualche soldino in più con i lucchetti per cercare di evitare questi furti ASET invece chiude l'ufficio clienti e anche i centri della differenziata l'attività è sospesa nelle strutture di Fano Pergola e Calcinelli e dunque resteranno chiusi al pubblico fino al prossimo 3 di aprile nel sottopasso invece della stazione c'è questo murales dedicato alla donna parso credo ieri 8 marzo in questo momento difficile per celebrare ma comunque una riflessione su chi ha sofferto chi ha sofferto è l'artista che ha dipinto questo murales nel sottopasso della stazione è una donna che è stata abusata è una donna che subì una violenza ha fatto questo murales nel sottopasso il segno di Lila questo è l'opera con questa scritta la verità non si cancella tradotta in italiano perché poi credo sia una cosa tipo napoletana dice l'autrice che rimane comunque anonima e racconta già si era vista un'opera di questa artista anche a Fano il titolo di questa di quest'opera questa volta è La gonna rossa sotto invece anche qui un uomo che tenta il suicidio e il salvato dei poliziotti riferendosi all'episodio di via anzi di piazza le primo maggio a Pesaro e poi a Sant'Orso invece di nuovo a Fano la biblioteca che era stata allestita dentro questa cabina telefonica è stata smantellata è la bibliocabina la cabina ancora in funzione quindi non può essere destinata ad usi diversi come ha spiegato un funzionario della società telefonica precisando che esistono problemi riguardo l'assicurazione che poi non coprirebbe eventuali danni l'unica cosa che si può fare stando appunto all'articolo è che c'è una condizione per recuperarla si dovrebbe attendere che il traffico di questa cabina telefonica scenda sotto la soglia che impone la dismissione e quindi forse entro l'anno potrebbe scendere appunto sotto questa soglia e dunque di conseguenza la Telecom potrebbe decidere di chiuderla e dunque di poterla utilizzare forse in altri modi il centro-destra andiamo a Senigallia cerca il candidato spunto un nome nuovo è quello di Molinelli l'ex l'ex dirigente della Polizia Stradale di Senigallia per il centro-destra è tutto grazie per aver seguito la nostra segna stampa ci vediamo stasera se avete segnalazioni notizie da inviarci questo è il numero di telefono da contattare arrivederci grazie a tutti grazie a tutti